Niente più Jobs Act per i propri lavoratori. La decisione è di un circolo arci di San Lazzaro di Savena nel Bolognese e non è la prima volta che accade in zona. Sentiamo Samuele Amadori. Non è la prima volta che accade ma in questo caso la rinuncia all'applicazione del Jobs Act ha un valore fortemente simbolico. Il circolo arci di San Lazzaro di Savena, uno dei più grandi d'Italia, ha deciso di siglare un accordo con la CGL per eliminare tutti gli elementi peggiorativi della legge 92 e ripristinare le tutele dei 26 lavoratori. Sono previsti degli impegni tra le parti nelle quali il circolo si impegna a non procedere verso i licenziamenti in modo unilaterale, nemmeno verso i demansionamenti e nemmeno verso dei controlli di bioservabilizzanza con i lavoratori. Quindi funziona come un contratto integrativo? Certo, questo accordo è un accordo che non ha soltanto una valenza politica ma anche una valenza giuridica, quindi in questo caso le aziende rispetto alle norme che abbiamo all'interno di questo accordo si potranno muovere diversamente a quanto previsto in materia dal Jobs Act. Dicono che siamo il circolo più grande d'Italia quindi speriamo di dare continuità a questa cosa anche per altri circoli più piccoli che si mettono sulla strada di fare queste cose. Non è la prima volta che accade, già aziende di grosse dimensioni come Ducati e Bonfigliori avevano rinunciato a mettere in pratica la normativa, ora il piano dell'Arci di Bologna è quello di allargare l'accordo a tutti gli altri circoli sul territorio.